Presidente Fedriga, come commenta quello che è avvenuto all'ospedale di Roma? È una parte di popolazione straniera che pensa di non doversi attenere alle leggi dello Stato italiano. Delle leggi che oltretutto servono per tutelare la sicurezza in termini di salute dei pazienti di un ospedale. È inaccettabile che qualcuno pensi che ci sia un'enclave musulmana all'interno dei nostri ospedali dove per esempio nei reparti dove ci sono trapianti di organi o quant'altro si possa entrare senza le dovute protezioni, magari con il burca e magari portare dentro tappeti per fare le preghiere. Le leggi valgono per tutti, ovviamente per i cittadini di questo paese, tanto più devono valere per i cittadini straniere. Chi non vuole rispettare le nostre leggi può tranquillamente tornare da dove è venuto, non stiamo qui a pregare a nessuno di rimanere in Italia.